Mi trovo a Taranto, quartiere Paolo VI, Corso Bruno Buozzi e dintorni. Guardate un polmone di verde, c'è poco da dire, un'area fantastica però immersa nel degrado, nell'abbandono assoluto e oggi voglio rappresentarvi una discarica o meglio più discariche che mi sono state segnalate. Le discariche ormai purtroppo sono all'ordine del giorno, ma vi farò vedere davvero delle immagini impressionanti, oserei dire, perché ce la dobbiamo prendere certamente con l'inciviltà di chi ha un senso civico pari a sotto zero, quindi gente che andrebbe punita drasticamente per gli attentati proprio alla natura che compie. Però, viva Dio, anche l'amministrazione comunale dovrebbe provvedere, anzi l'amministrazione comunale senza anche dovrebbe provvedere. Non è possibile che da mesi e mesi e mesi questi rifiuti di ogni genere, soprattutto materiale edilizio, rimangano così abbandonati che vanno ad accumularsi o accumularsi e accumularsi e si creano montagne, stratificazioni inaudite. Guardate qui, ma qui è come dire ancora nulla, perché facciamo, percorriamo qualche metro e ci troviamo proprio dinnanzi a quella che dovrebbe teoricamente, sottolineo, essere la pista ciclabile, perché poi questa pista è completamente ostruita dai vari rifiuti. Guardate qui cosa c'è, ecco l'immagine impressionante di cui parlavo, una raccolta, letteralmente una raccolta di bottiglie, guardate un po', qualcosa di pazzesco, proprio una raccolta, non so quante saranno, forse c'è un centinaio, boh, forse anche di più, guardate qui se è possibile, proprio quasi ci si è messi di proposito a metterle nei bustoni e a scaricarle qui e di fronte a neanche due metri, un metro, guardate qui un altro scempio mai visto, qui ci sono delle ragioni, ecco, guardate, scusatemi, il bello della diretta, ancora altre bottiglie qui, ancora altre bottiglie qui, qualcosa di pazzesco. Allora sì, abbiamo capito che gli incivili ci sono e lo ripeto vanno bastonati senza misericordia in senso metaforico, però tua amministrazione, caro Sindaco Merucci, non è che, e mi rivolgo anche ovviamente a Chima Ambiente Amiu, non è che sol perché ci sono i porci voi dovete lasciare la città nel porcile e questo è assurdo perché poi, voglio dire, l'amministrazione comunale deve anche intervenire, deve farsi rispettare, deve far rispettare, deve intervenire affinché siano rispettate le normative igienico-sanitarie e qui di rispetto di normative igienico-sanitarie non v'è nulla, questa è una terra di nessuno, una terra abbandonata in cui ci sono gli incivili, che fanno i comodi propri proprio perché sanno che godono di impunità, nel senso che l'amministrazione li lascia fare, li lascia, come dire, marcire nel proprio porcile, solo che se ci sono questi incivili che sono dei porci è assurdo che poi a rimetterci debbano essere altre persone che, poverette, non hanno nessuna colpa se non quella di trovarsi, di abitare qui. E dicevo queste immagini proprio stridono col contesto perché pensare a tutto questo ben di Dio, a questi ulivi, a questo verde e farebbero presagire, come dire, ad un angolo di paradiso, ad una oasi felice, a un polmone di verde e invece ci imbattiamo in un attentato alla pubblica incolumità perché di questo si tratta. Qui, ripeto, è qualcosa di diosceno, situazioni che si sono stratificate da anni e, concludo, l'amministrazione comunale ha deciso di abbandonare queste zone, le ha lasciate al proprio destino. Un modo incredibile, proprio la prova provata che Melucci e Compagni non sanno amministrare la città perché il cittadino pretende risposte, pretende che siano sanzionati gli incivili e pretende di vivere in condizioni dignitose. Chiedo troppo? Chiediamo troppo? Grazie.